ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione impurità dissolutezza idolatria stregoneria inimicizie discordia gelosia ire contese divisioni sette invidie ubriachie orge e altre simili cose circa le quali come vi ho già detto vi preavviso chi fa tali cose non erediterà il regno di dio lettera di paolo ai galati capitolo 5 versi 19 a 21 grazie